Ciao, questa è la quarta puntata della serie Origini e il tema di oggi Origini dell'essere umano. C'è un testo nella Bibbia, nel Salmo 139, versetto 14, che dice «Io ti celebrerò, perché sono stato fatto in modo stupendo. Le tue opere sono meravigliose e io lo so molto bene». Immagino che Davide, l'autore di questo testo, non capiva molto riguardo l'embriologia, il DNA o il genoma umano, nonostante sapesse bene che la creazione dell'essere umano era qualcosa di veramente stupendo, meraviglioso. Una delle grandi domande che si pongono agli evoluzionisti è «Qual è l'origine dei sessi?». Come sono sorti i generi maschio e femmina? È facile spiegare che ci sono molti vantaggi nella riproduzione sessuata. La difficoltà sta nel rispondere come è sorta. Guardate, la vagina è l'unico organo incontrato esclusivamente nei mammiferi, ma non in pesci, anfibi, rettili o uccelli. Perché sorgesse, è stato necessario l'aggiunta di una grande quantità di informazione genetica. Il sistema riproduttore femminile non è solo un tubo di carne, è di una complessità meravigliosa, con i propri muscoli specializzati, ghiandole, terminazioni nervose e la capacità di contenere una o più di una nuova forma di vita, supplendo alle sue necessità per nove mesi. Ora pensate al sistema riproduttore maschile. Il gene BOWLE, che è il responsabile per la produzione di spermatozoi, è così vitale che, secondo gli evoluzionisti, la sua funzione si è mantenuta inalterata durante l'evoluzione. Il BOWLE sembra essere l'unico esclusivamente necessario per la produzione di spermatozoi. La questione è la seguente. Perché ci fosse una spiegazione veramente soddisfacente riguardo l'origine dei generi, dei due sessi, sarebbero state necessarie due mutazioni simultanee, nello stesso periodo e nello stesso spazio geografico, in due organismi differenti, a tal punto da generare un sistema riproduttore maschile completamente funzionale, un sistema riproduttore femminile completamente funzionale, in questi due organismi. E loro avrebbero dovuto incontrarsi e incrociarsi, dando origine a un nuovo essere vivente. Si riesce a percepire che qui i miracoli si moltiplicano di molto e la spiegazione non sembra essere molto coerente. Un'altra grande domanda. Perché la madre non rigetta il feto? Quando l'ovulo è fecondato dallo spermatozoo. Sì, perché ci sarebbe da aspettarsi un rigetto. È più o meno come un trapianto di un organo. 50% di quel feto non appartiene al corpo della madre e lei dovrebbe espellerlo. Ma succede qualcosa di interessante che è riportato nella rivista Scienza Oggi nell'articolo La sfida della gravidanza, un articolo molto interessante scritto da due medici scienziati. Lì loro spiegano che quando l'ovulo, l'ovulo fecondato, si pianta nell'utero della donna, immediatamente si forma la placenta attorno ad esso, diventando una specie di barriera di protezione, un campo di forza, in modo che gli anticorpi della madre non riescano a distruggere quello che si trova al suo interno, l'embrione. Ma supponiamo che un anticorpo della madre riesca a penetrare questa barriera placentaria. Allora succede qualcosa di ancora più interessante, più fantastico. Il sistema di difesa del bebè, dell'embrione in formazione, è già relativamente formato appunto di inviare in quel momento un anticorpo che disattiverà quell'anticorpo della madre, affinché il bebè non sia distrutto, anzi che rimanga lì, protetto. È qualcosa di veramente impressionante. È un sistema che avrebbe dovuto funzionare molto bene già dall'inizio, altrimenti io non sarei qui e nemmeno tu saresti lì a guardare questa serie, perché la vita si sarebbe interrotta alla sua origine. Un'altra domanda che ci si fa è come spiegare il fatto che soltanto una cellula fecondata si moltiplichi così rapidamente, dando origine, quasi sempre, ad essere perfetti, con due braccia, due gambe, due occhi, bilateralmente simmetrici. Un articolo pubblicato dalla rivista Vescia, La genetica non è destino, descrive la questione dicendo quanto segue. Durante i nove mesi di gestazione, lo zigote, cellula unica prodotta dalla fecondazione dell'ovulo dallo spermatozoo, si divide gradualmente fino a trasformarsi nei 100 trilioni di cellule che formano i 220 tipi di tessuto del corpo umano. Ciò che ancora intriga gli scienziati è come questa divisione si svolga in modo così organizzato che il risultato sia un bebè con due occhi, due orecchie, due braccia, due gambe, tutto sempre nello stesso posto e distribuito in modo simmetrico. Cosa impedisce ad uno zigote di produrre casualmente un essere con i piedi sulle spalle e il naso nell'ombelico? Allora gli scienziati sono arrivati alla conclusione che esiste un gene chiamato omeobox, che è una specie di capocantiere. È lui che organizza questa divisione cellulare, che a sua volta forma degli esseri simmetrici, bilateralmente simmetrici. Secondo l'articolo, gli evoluzionisti giungono alla conclusione che questo gene non si è modificato durante l'evoluzione. È un altro caso come quello che abbiamo visto precedentemente riguardo il gene boule, degli spermatozoi. È chiaro che non potrebbe mutare, perché se cambiasse, la vita potrebbe andare persa. Quindi quando una cosa deve evolversi, allora sembra che evolva. Ma quando non può evolversi, si mantiene inalterata. È veramente un po' complicato da capire. Pensate pure un attimo alla differenza tra il bacino dell'uomo e della donna. Il bacino femminile, come vedete sullo schermo, ha una forma più circolare rispetto a quello dell'uomo e una cavità pelvica più grande, che facilita il passaggio del bebè durante il parto. Se non ci fosse questa differenza tra i bacini già dall'inizio, i bebè non nascerebbero. Il primo bebè sarebbe potuto morire se la donna avesse avuto un bacino come quello dell'uomo. Invece no. Tutto sembra essere stato messo nel modo giusto, nel posto giusto, per funzionare perfettamente già dall'inizio. Cosa dire allora dell'alimento perfetto, il latte materno? Guardate. Si trovano alti i livelli dell'inibitore della secrezione della tripsina pancreatica nel colostro, che è quel primo latte che viene fuori quando la mamma inizia ad allattare. Questo inibitore è una molecola normalmente presente nel pancreas e protegge l'organo dai danni dagli enzimi digestivi che produce. L'allattamento prepara l'intestino del bebè per ricevere gli alimenti. Oltre a possedere anticorpi, il colostro è ricco di vitamina A che supplisce le basse riserve del fegato del neonato. È un altro sistema così perfettamente bilanciato che i bisogni del bebè sono perfettamente accontentati dal latte che la mamma produce. Tu hai formato le mie interiora. Tu mi hai intessuto nel grembo di mia madre. I tuoi occhi videro la massa informe del mio corpo, dice il Salmo 139 nei versetti 13 e 16. Un libro che ha segnato la storia, la scatola nera di Darwin del biochimico Michael B. propone, tra le altre cose, un'illustrazione interessante con lo scopo di spiegare ciò che lui chiama la complessità irriducibile, sistemi di complessità irriducibile. Pensate alla trappola per i topi. Per avere una trappola per i topi funzionale devi avere come minimo i seguenti componenti, una molla, un martello che colpirà il topolino, un bloccaggio e una base fatta del materiale adeguato. Togliendo un componente qualsiasi di questa trappola essa non funziona più. Allora abbiamo un sistema la cui complessità non può essere ridotta perché in tal caso non funzionerebbe più un sistema di complessità irriducibile. Sapete che nel nostro corpo abbiamo centinaia, migliaia di sistemi di complessità irriducibile, sistemi che non funzionano se non hanno tutti i pezzi connessi e non funzionano perfettamente? Osservate sullo schermo la mappa metabolica umana. Questa mappa ultracomplessa rivela ogni reazione biochimica che accade ad ogni momento nel nostro corpo affinché il nostro metabolismo possa funzionare in modo appropriato. Questa è la complessità irriducibile che doveva funzionare bene fin dall'inizio, altrimenti non saremmo qui. Ora pensate a una catena di montaggio automatizzata. Dimostra molti design, vero? Molta intelligenza. Sì, lo dimostra. Allora pensate alla catena di montaggio che è il ribosoma, un organolo che fabbrica proteine ed enzimi per gli esseri viventi. Lo fa mettendo insieme degli aminoacidi, cucendo gli aminoacidi. È una macchina molecolare naturale che si trova in tutte le cellule vive. Sapevi che il ribosoma produce 20 blocchi di proteina al secondo? Allora pensate, la macchina molecolare artificiale più avanzata che gli esseri umani hanno mai costruito produce 4 blocchi ogni 12 ore. 20 blocchi al secondo contro 4 blocchi ogni 12 ore. Qual è il più efficiente? La kinesina è un'altra macchina molecolare affascinante. È un motore proteico che letteralmente cammina lungo il microtubulo, struttura che forma lo scheletro delle cellule. La kinesina è responsabile della strutturazione e della distribuzione di organoli membranosi, come il complesso di Golgi e il reticolo endoplasmatico rugoso, tra gli altri componenti delle cellule. È un motorino che funziona in modo perfetto, trasportando questi organoli dentro la cellula. Tu hai trilioni di cellule, quindi hai molti trilioni di micro-robot che lavorano proprio ora dentro il tuo corpo, affinché tu possa esistere, possa essere chi sei, vivere. Saranno queste macchine il risultato del caso o di un design tremendamente intelligente? Pensate un attimo a delle centrali idroelettriche come quella di Itaipu. Centrali idroelettriche sono conquiste che dimostrano molta intelligenza e investimenti molto alti di denaro. Vedete i giganteschi tubi di questa centrale idroelettrica Itaipu? Vedete il rottore, anche quello enorme, e la centrale operativa con vari computer di ultima generazione che fanno sì che tutto ciò possa funzionare. Osservate. La centrale idroelettrica si tratta di un dispositivo che converte l'energia cinetica dell'acqua in una forma di energia più adatta all'uso umano, l'energia elettrica. In pratica è questo ciò che fa. Ora analizziamo una centrale idroelettrica, tra virgolette microscopica. Nanotecnologia all'avanguardia, il mitocondrio. Il mitocondrio converte l'energia conservata in forma di zuccheri e grassi in molecole di adenosina trifosfato, che sono più adatte all'uso umano. Fanno praticamente ciò che fanno le centrali idroelettriche, solo che per noi, dentro il nostro corpo. Paragonandole, la gigantesca Itaipu possiede soltanto 20 turbine. Ogni mitocondrio ne possiede migliaia. E in ogni cellula ci sono migliaia di mitocondri. Quante micro Itaipu hai dentro di te e fanno sì che tu funzioni? Trilioni. Molti trilioni di mini Itaipu dentro di te. Ora pensate. Le migliori unità di conversione di energia progettate dall'uomo perdono parte dell'energia dissipata sotto forma di calore. La conversione energetica realizzata dalla cellula ha una resa del 50%. Potrete pensare allora è bassa. Gli altri 50 si perdono sotto forma di calore. Lì nulla si perde. In realtà i 50% che sarebbero persi, per intenderci, sotto forma di calore, sono necessari per mantenere la nostra temperatura a 37 gradi. Temperatura ideale perché si realizzino le reazioni biochimiche del nostro metabolismo. Se fosse più bassa la temperatura, le reazioni chimiche non potrebbero verificarsi. Se la temperatura del corpo fosse più alta, le proteine potrebbero degradarsi. Notate. Ha resa perfetta. E per concludere, parleremo riguardo il chilo e mezzo di materia più complessa dell'universo. Il cervello umano. Un libro pubblicato dal giornale Il Foglio di San Paolo, Come funziona il cervello, dice ciò che segue riguardo questo organo così complesso. Il cervello è l'organo, l'oggetto più complesso che l'uomo conosce. Dentro questa massa, apparentemente grossolana e senza forma, c'è il più grande progetto di design mai visto. Ha circa 100 bilioni di neuroni, cellule nervosi cerebrali. Ognuno di questi neuroni può fare tra i mille e le varie centinaia di migliaia di sinapsi. Notate che in questo testo l'autore, è un libro secolare pubblicato da Il Foglio di San Paolo, scrive che è il più grande progetto di design mai visto. Se c'è un progetto, si presuppone un progettista. Se c'è un design, si presuppone un designer. Lui menziona ancora che il cervello è capace di produrre circa mille trilioni di connessioni. Se la sostanza bianca di un unico cervello umano fosse srotolata, si formerebbe un filo abbastanza lungo per fare due giri intorno al globo terrestre. Allora immaginate, tutto ciò, i neuroni e le sue connessioni, le cellule di appoggio, il cablaggio, è aggrovigliato dentro il tuo cranio. Come diceva Carl Sagan, uno scienziato ateo, il cervello è qualcosa di molto grande in uno spazio molto piccolo. È veramente fantastico pensarci. La rivista Vesha del 28-2-2008 ha un articolo riguardo il cervello che dice così. Con la tecnologia che oggi abbiamo a disposizione, sarebbe necessario un super computer che occuperebbe un'area di circa quattro stadi di maracanà per riprodurre digitalmente la capacità di processamento dei cento bilioni di neuroni del cervello umano. Se ti volessi vendere un computer resistente all'acqua, ai colpi e che funzioni con poca energia e che inoltre non abbia bisogno di ventole per raffreddarsi, saresti interessato ad acquistarlo? In realtà già ce l'hai. Hai un computer così dentro la tua scatola cranica. Puoi tuffarti quanto vuoi. Resiste relativamente bene ai colpi. Non ha bisogno di sistemi di raffreddamento. Quasi mai si riscalda troppo. A volte, forse, sì. Questo è il cervello umano. Il computer più affascinante che esista. Veramente. In realtà il cervello umano è il responsabile della creazione dei computer che affascinano molte persone. La prossima volta che vi stupirete di un iPad, di un computer di ultima generazione o di qualcosa del genere, ricordatevi che è ancora più meraviglioso. È il cervello che ha creato questi dispositivi. Cosa ne pensi di questa immagine sullo schermo? Risultato di design intelligente o cause naturali? E questa? Questo ha creato quello. E questo qua? Cause naturali o design intelligente? Ricordatevi che il mitocondrio è molto più complesso dell'Itaipu. Cause naturali o design intelligente? Non dimenticatevi che l'occhio umano è molto più complesso, molto più stupendo di qualsiasi telecamera che esista, fatta dall'essere umano. E questo qui? Design intelligente o cause naturali? Questo ha creato quello ed è infinitamente più complesso. È curioso realizzare che qualsiasi persona direbbe che questi dispositivi sono stati creati da persone intelligenti. Ciò nonostante, ci sono persone che credono che questi dispositivi, tra virgolette, in realtà sono il risultato di mutazioni casuali filtrate dalla selezione naturale. È difficile capire perché le conclusioni variano in questo senso, dato che i due tipi di dispositivi dimostrano un design intenzionale e intelligente. Qualche anno fa è uscito al cinema un film basato su un libro di Carl Sagan intitolato Contact. Contatto. Racconta la storia di una scienziata che lavora per il SETI, un gruppo di ricercatori che cercano intelligenza, segni di intelligenza venuti dallo spazio. Ad un certo momento della storia ricevono un segnale che attribuiscono a un'intelligenza cosmica, forse ad un alieno intelligente che avrebbe inviato quel segnale. Ma cosa si intende per un segnale che caratterizzi un'intelligenza? Un messaggio. In quel caso, cioè nel film, ricevono il segnale di una frequenza di numeri primi, da 1 a 121. Per loro, un'evidenza incontestabile di una reale fonte intelligente. Ma la domanda è, e le 30 enciclopedie britanniche contenute nel nucleo di una meba, come abbiamo visto qui in un video precedente, non sarebbero risultato di un'intelligenza? Da dove verrebbe questa informazione? Pensate un attimo alla successione di Fibonacci. La successione di Fibonacci sarebbe 0, 1, 1, 2, 3, 5, 8, 13, 21. Cioè, nel dividere un numero della serie per il suo predecessore, il risultato, man mano che il numero va avanti nella serie, si avvicinerà sempre più al valore di 1,618033. Questo valore è chiamato numero aureo. Come spiegare la presenza di un'organizzazione matematica così sofisticata presente in oggetti naturali e imitata in opere da artisti e ingegneri dello spessore di Da Vinci. Notate che questa successione si ripete nella natura, forse nel fiore di un girasole, in una chiocciola, insomma. È un numero che si ripete lì. Perché nel film Carl Sagan, uno scienziato ateo, conclude che una semplice sequenza di numeri primi, da 1 a 121, sarebbe un'evidenza di una fonte intelligente e quando osserva, per esempio, la successione Fibonacci non conclude che essa sia il risultato di una fonte intelligente, ma del caso. Colossesi 1,16 dice che Dio ci ha creati per sé, perché aveva un proposito. Dio ci ha fatti per lui. Abbiamo qui un'intenzionalità. Ed è bellissimo sapere che siamo venuti dalle mani di un creatore e torneremo da lui in un mondo che sarà ricreato da lui. Dio ha lasciato evidenze molto chiare della sua presenza e del fatto che lui è il creatore. Basta aprire bene gli occhi per rendersi conto che sono lì. Un abbraccio e alla prossima puntata di Origini. Grazie a tutti.